quale tipologia di microfono fa al caso vostro, quindi basandoci su tutto quello che abbiamo detto prima. Quindi le caratteristiche dei microfoni che servono per ogni videomaker, soprattutto in base ai contesti che dovrà andare a realizzare. Come è facilmente intuibile, questo è solo un estratto di un videocorso molto più ampio che abbiamo pubblicato sulle nostre piattaforme. Quindi se vedete che vi manca qualche nozione, andate a vedervelo perché sicuramente è molto più ampio e molto più interessante. Torniamo alla spiegazione. Parliamo adesso della prima tipologia di microfoni, quindi che un videomaker dovrebbe comprare assolutamente, e parliamo dei microfoni lavalier omnidirezionali. Quindi il microfono lavalier, chiamato anche pulce, collarino, insomma ci sono tantissimi nomi per questo microfono, che è questo qui, composto da una capsula, vedete che questa qui è estraibile, che poi va nel suo ricevitore. Dunque, il microfono lavalier è quello che noi consigliamo soprattutto all'inizio per ogni videomaker, che però deve fare un certo tipo di lavoro e ci arriveremo più avanti. Questo perché? Perché i lavalier sono ovviamente piccoli, discreti, indossabili, e quindi hanno tantissimi vantaggi perché possono essere posizionati vicino alla fonte sonora. In questo momento io indosso un lavalier, che voi non riuscite neanche a vedere, però ho appunto un microfono che mi viene posizionato direttamente addosso, quindi vicino alla fonte sonora. E questo ci facilita anche, soprattutto nella presa diretta, a poter effettuare dei campi lunghi, dei totali, quindi andando a risolvere il problema di avere l'asta microfonica come questa qua dietro. Hanno però anche degli svantaggi. Il più importante, su cui bisogna fare molta attenzione, è quella che soffrono i rumori di movimento. Quindi se io vado a strofinare i vestiti, a fare dei movimenti, a toccarmi con le mani, in questo caso c'è il microfono, vado a creare del disturbo. Questo è il contesto in cui il problema che possono dare questo tipo di microfoni. C'è anche un altro problema, che però ci porta a fare un'ulteriore precisazione su quelli che sono i microfoni lavalier. Infatti i microfoni lavalier possono essere senza fidi o con il filo, quindi senza cavo o con cavo. Quindi noi possiamo avere un microfono che si distingue in wireless e non wireless, quindi direttamente a cavo. Ma anche qui possiamo avere due differenze, perché possiamo avere i microfoni wireless, quindi le pulci lavalier wireless, oppure radio, che sono due tipologie diverse di microfoni che meritano un approfondimento. Quindi il lavalier può essere a cavo, quindi che si innesta direttamente nel nostro registratore, nella nostra camera, oppure può essere di tipo wireless, oppure radio. Andiamo un attimino brevemente a parlare di queste due caratteristiche, quindi quali sono le differenze fra i radio microfoni lavalier e i lavalier wireless, perché giustamente potreste valutarne l'acquisto, ma non sapete bene qual è la differenza, perché c'è una grossa differenza anche a livello di costo. Dunque, i radio microfoni usano appunto, come diceva la stessa, le radiofrequenze per trasmettere l'audio, quindi dal microfono al ricevitore, e coprono distanze maggiori, spesso fino a centinaia di metri. Offrono una qualità del suono maggiore e hanno una bassa latenza, quindi un basso ritardo. Sono molto stabili e sono meno soggetti alle interferenze, che possono essere quelle ambientali, dovute appunto allo spazio architettonico. E sono ideali, soprattutto vengono usati per le produzioni di film, serie tv, live, concerti, perché appunto garantiscono veramente un ampio spazio tra la regia, comunque la postazione, la camera, e il soggetto sul quale viene microfonato. Chiaramente i Sennheiser, marca che vedremo spesso in questa sezione dell'audio, ha il monopolio su questi microfoni che sono veramente, veramente incredibili. Quindi sostanzialmente i radio microfoni servono per quei contesti, diciamo, dove c'è più distanza dal soggetto, dove magari ci possono essere tanti spazi, se insomma in situazioni particolari servono. Altrimenti, se si vuole andare su una soluzione più economica, ma non per questo meno efficiente, i microfoni lavalier wireless, come può essere questo rode qui. Quindi questi microfoni utilizzano la tecnologia wireless per cornettersi tra di loro. Quindi hanno una portata più limitata rispetto a quella che può essere il radio microfono, parliamo di 10-30 metri al massimo. La qualità del suono ovviamente è inferiore, però per contesti web, piccoli talk, va benissimo. E hanno anche una maggiore latenza, ma si parla veramente di poco. E sono più adatti appunto alle situazioni, come abbiamo detto prima, quindi di vlogging, podcast, conferenze, video interviste, piccoli spot pubblicitari. E sicuramente hanno un costo molto, molto, molto inferiore rispetto a quelli che sono i radio microfoni. E qua l'esempio, mi sento di citarlo perché lo usiamo da sempre, sono i wireless Go del rode. Ci sono adesso anche i nuovi DJI che sono usciti sul mercato, non li abbiamo mai provati, ma secondo me siamo lì e quindi meritano assolutamente di essere presi in considerazione, anche se non sono Sennheiser, danno veramente molte soddisfazioni e sono anche affidabili. Quindi per dare un altro appunto su quella che è la differenza tra i radio microfoni e i microfoni wireless, è che sicuramente i microfoni wireless hanno una tecnologia più giovane, mentre invece i radio microfoni sono da tantissimi anni sul mercato, quindi giustamente sono in evoluzione, mentre invece i radio microfoni hanno una tecnologia più collaudata. E soprattutto i microfoni wireless sono plug and play, cioè nel senso noi lo prendiamo, lo accendiamo, si accoppia in un automatico e possiamo utilizzarli, collegare al cellulare, insomma fare tantissime cose. Mentre invece il radio microfono ha delle frequenze, le radiofrequenze da calibrare, ogni volta che ci si sposta bisogna trovare la frequenza un po' come la radio. Quindi sicuramente non sono così immediati da utilizzare, costano di più, servono soltanto se avete delle situazioni specifiche che sono quelle che abbiamo detto prima. Parliamo adesso dei microfoni shotgun. Microfoni shotgun che giusto per intenderci possiamo identificarlo come questo che è posizionato qui, adesso ovviamente coperto, ma poi parleremo in una sezione apposta solo di queste tipologie di microfoni, faremo vedere come si usano, facciamo tutte le prove, oppure anche questo, questo può essere identificato come un microfono shotgun, chiaramente è un po' più piccolino, lui è un po' più diciamo amatoriale, è il vecchio microfono che usavamo, però ci è utile per capire di cosa stiamo parlando. Eccolo qui, tolgo la sua protezione, questo è il microfono shotgun, che ovviamente è molto diverso da quello che è il lavalier. Allora, questo tipo di microfono è un microfono che ci apre un po' anche a quella che è la sezione successiva, quindi dell'alimentazione, della direzionalità, ma andiamo con ordine. Le caratteristiche principali del microfono shotgun sono quelle di avere una captazione del suono estremamente direzionale. La sua filosofia ha bisogno di essere direzionato verso dove dobbiamo riprendere, dove dobbiamo avere la fonte sonora che emettiamo, questo è fondamentale. Quindi mentre il lavalier va agganciato sul soggetto, questo deve essere direzionato sul soggetto e non è posizionato addosso a lui. Il più vicino possibile sarebbe meglio, però giustamente deve essere direzionato, a prescindere se sia cardioide, supercardioide, ma deve essere direzionato verso il nostro soggetto. E ha appunto dei vantaggi incredibili, perché infatti più è direzionabile questo microfono, più è incanalabile il suono shot, quindi ipercardioide, supercardioide, più abbiamo un suono che isola tutto il resto. E quindi ha una qualità anche proprio a livello di suono incredibile, perché è più grosso, come potete vedere anche dalle dimensioni, quindi la qualità del suono, la qualità del nostro condensatore all'interno è estremamente maggiore. Quindi avremo un suono molto più profondo, molto più cinematografico. Ok? Podiamo usare questo termine e lo usiamo. Lo svantaggio appunto è quello di avere il problema del posizionamento e della portabilità, cosa che invece non abbiamo nella pulce, perché mentre la pulce noi la agganciamo e ce la dimentichiamo, questo invece deve essere preso, portato, montato da qualche parte, usato da qualcuno e usato anche bene, perché altrimenti se non lo si usa bene, lo si usa a troppa distanza, perde la sua utilità ed è completamente inutile. Questa versione qua di Shotgun, come potete vedere, può essere innestata sopra la nostra camera, però chiaramente è più un audio di backup se lo montate sulla camera, a meno che non siete veramente vicino. Già in questo momento io sto parlando, ma ho il lavalier, perché la camera è a due metri da me. Ok? Quindi se io mettessi questo microfono lì non riuscirebbe ad arrivare. Cosa diversa invece se posizionassi quest'altro microfono in questa posizione, e quindi lo posizionassi vicino alla mia bocca, da qua sopra, giustamente riuscirei a catturare l'audio in maniera più precisa, chiaramente facendolo andare fuori campo, ok? Però ecco, queste sono le particolari difficoltà di questo tipo di microfono, però sicuramente ha un suono nettamente migliore rispetto a quello che è la pulce o il lavalier. Va però a sopperire a tutta un'altra serie di complicazioni, quindi in primis, come abbiamo detto prima, lo sfregamento, quindi se qualcuno si sfrega, si tocca, eccetera, giustamente non abbiamo tutti quei problemi che ci sono. Soprattutto può essere utilizzato per scene in movimento particolari, perché può essere posizionato in maniera tale che riusciamo a spostarci noi col soggetto, e soprattutto abbiamo una forte resistenza a quello che può essere il vento, e quindi tutte quelle condizioni atmosferiche che andrebbero a rovinare l'audio della pulce. Ok? Invece qui, come si può vedere col blimp, che è questo elemento che va già a tagliare un po' di vento, ma con anche il dead cat, il gatto morto, quella che tutti conoscono, andiamo veramente a limitare di molto quella che è l'incidenza del vento sul nostro microfono e quindi sul nostro audio. Chiaramente questa tipologia di microfoni garantisce una costanza maggiore relativamente al fatto della direzionalità del nostro soggetto. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui io la pulce, come potete vedere in questo momento io la pulce tutti bene, ma se mi metto a girarmi, ok, in queste altre posizioni e parlo così, giustamente non sono più in asse col microfono che in questo momento è qua sotto. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che io perdo quella che è la precisione dell'audio del mio microfono. Con i microfoni shotgun invece riusciamo, innanzitutto, perché abbiamo un operatore a seguire il movimento della bocca, quindi se io mi muovo l'operatore può muovere, ok, il microfono e quindi andare a seguirmi. Ma soprattutto, essendo un attimino più precisi e più ampi, possono riuscire a sopperire a questo tipo di situazione, che è molto importante. Succede più volte che durante le interviste, magari soprattutto se ci sono due persone che parlano l'una con l'altra, si siedono, iniziano a parlare così e l'audio non va bene in questa posizione, è fuori dal tiro della voce, dovrebbe essere qui il lavalier, ok? Quindi per questo è indispensabile averli per certi tipi di contesti. Infine abbiamo i microfoni ambientali e sono utili per catturare, appunto, come suggerisce il nome, l'audio d'ambiente. Qui ne abbiamo uno. In realtà questo è un caso particolare perché è un microfono che può essere selezionato, quindi può diventare supercardioide, ipercardioide, un recorder, però che questo microfono ambientale, come potete vedere, ha gli speaker sia da una parte che dall'altra e questo cosa ci permette di fare? Beh, ci permette di andare a riprendere l'audio nella sua totalità a 360 gradi. Questi microfoni sono indispensabili per delle situazioni dove non possiamo, per esempio, microfonare direttamente il nostro soggetto. Immaginiamo una conferenza, abbiamo più persone che parlano, non possiamo microfonare singolarmente tutti quanti, beh, un microfono direzionale, posizionato magari vicino alle casse, per un evento ci dà la possibilità di riprendere la totalità dell'audio. Chiaramente non sarà pulito, non sarà come una pulce, però ci salva in quelle situazioni. Oppure dobbiamo registrare del rumore di fondo per il nostro cortometraggio, quindi abbiamo registrato i dialoghi, abbiamo fatto tutta la parte parlata, vogliamo del rumore di fondo. Beh, questo microfono fa al caso nostro. Ovviamente lo svantaggio qual è? Che non abbiamo un audio pulito. Quindi, sia per un form factor, cioè che se io sto facendo una scena non posso o parlo col microfono così, oppure lo dovrò materialmente tenere lontano da me e quindi perderà della sua potenza. E soprattutto non consente di fare, diciamo, dei lavori più puliti, perché chiaramente essendo direzionale catturerà tutti gli altri suoni presenti nella scena. Però è utile per le situazioni che abbiamo detto, sicuramente se ne avete la possibilità, uno sempre con voi dovreste portarlo. Ultima tipologia, i microfoni da banco per i podcast. Anche questi microfoni comunque sono cardioidi, ricordiamolo sempre. E questa tipologia di microfoni, vedete, c'è anche qui, vedete, adesso non so se si vede, ma abbiamo anche proprio il disegnino qui. Non so se si vede. Abbiamo il disegnino che ci mostra il diagramma del nostro microfono. Per cosa sono utili questi microfoni? Beh, sicuramente per tutte quelle situazioni statiche, come potrebbe essere questa, ok? Le situazioni da podcast, gaming, insomma, tutte quelle situazioni in cui o il microfono si deve vedere in campo, qui nell'inquadratura, come tutti i podcast che ci sono adesso, si vede il microfono perché questo microfono deve stare vicino a io che parlo, se no l'audio non si sente, non va bene. Ma soprattutto hanno una buona e una grande profondità sonora, quindi abbiamo un audio, un timbro vocale veramente eccellente. Questi microfoni, forse tra tutti quelli che abbiamo provato noi, sono quelli che ti danno la qualità audio migliore, qualità parlo proprio a livello di timbro vocale. Però chiaramente o sono in campo, quindi davanti al nostro soggetto, oppure per un'intervista, se non li volete fisicamente in campo, sono inutilizzabili. Ragazzi, il video finisce qui. Vi ricordo che questo è un estratto di un videocorso molto più ampio che abbiamo pubblicato sull'audio, dove trattiamo tantissimi argomenti sulla presa diretta su come essere un vero fonico per i vostri video su YouTube. Quindi se vi è mancata qualche informazione, oppure ritenete di voler approfondire ancora di più alcuni argomenti, qui sotto trovate il link per trovare il videocorso completo. Io vi ringrazio tanto ragazzi, ricordatevi, iscrivetevi al canale, mettete un like e fateci vedere che questi video sono interessanti e vi piacciono e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti.